Bobo, attenzione, c'è stata un'esitazione, attenzione. No, 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 io Bobo voglio tanto bene, perché, a parte diciamo così, facciamo il Bobo TV, che sta andando, anzi, sta andando molto bene, sono contento per lui, perché lui lo merita, perché è un grande calcitore, mi ricordo soprattutto quando l'ho seguito, quando ho andato a giocare a Lazio, prima di Lazio era Atletico Madrid, Juventus, Inter, a Inter mi piaceva meno, poi quando ho venuto a Milan, mi è piaciuto di più.